Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti. Benvenuto professore. Eccomi, un caro saluto a tutti e a tutte. Professor Novara, recentemente si è svolto il vostro convegno nazionale La scuola non è una gara. Cosa vi ha spinto a scegliere questo tema? Il tema è molto semplice, vogliamo insistere su un concetto che apparentemente è condiviso in pratica un po' meno, ossia la scuola non sono i voti, l'apprendimento non sono i voti, l'alunno non è il suo voto. Questo è estremamente importante, va ribadito perché è un caposaldo della storia della pedagogia, è un caposaldo anche della scuola senza scomodare i grandi come Don Lorenzo Milani e quant'altro. In teoria siamo tutti d'accordo, però poi quando la scuola diventa una gara tende a creare delle condizioni strane per cui l'alunno si sente inquieto, si sente in ansia e diventa tutto molto problematico. Se la scuola non è una gara non deve essere un voto e quindi a scuola ci si va per imparare con i propri tempi, con il proprio percorso, con la propria immaturità. È inutile pretendere alunni maturi, la scuola serve proprio in questi passaggi. Non arrivano a scuola degli alunni fatti e finiti, bisogna lavorarci, è molto importante che l'insegnante e tutto il sistema scolastico stiano dalla parte degli alunni per renderli migliori. Quindi abbiamo voluto ribadire che ci vuole uno sguardo benevolo verso i destinatari della scuola, perché con questo sguardo anche i nostri alunni vanno volentieri e possono vivere un'esperienza gradevole, di felicità, impegnativa, rigorosa, ma dove scoprono le loro risorse. Ecco, è stato un convegno di alto livello, dove si sono alternati sul palco professori universitari, attori, pedagogisti, scrittori e giornalisti. Quanto è importante un approccio multidisciplinare in ambito educativo? Più che questo direi che è molto importante che tutta la società abbia un occhio di riguardo verso la scuola e l'istituzione proposta ai processi di apprendimento. Se la scuola funziona, tutta la società funziona, l'abbiamo visto anche al tempo del Covid, perché permette alle nuove generazioni di inserirsi. Pensiamo ai tantissimi bambini e bambine straniere. Io vivo a Piacenza, il 41% degli alunni alla scuola primaria non è di nazionalità italiana. Insomma, sono delle cifre veramente significative, che ci fanno davvero pensare che l'essere italiani non è più come non lo è mai stato. Intendiamoci essere italici. E chi è che garantisce che questi bambini e bambine che arrivano da ogni parte del mondo possano assorbire anche le regole della nostra convivenza, del nostro stare assieme, del nostro vivere civile? E' proprio la scuola e quindi se la società guarda con interesse alla scuola, investe sulla scuola, noi abbiamo la possibilità poi di offrire quegli antidoti, quelle basi che ti servono tutta la vita senza dover poi spendere una catterva di soldi in carceri, in sicurezza, in sanità anche e in quant'altro. E' un elemento di salute la scuola, lo definirei così, passa da lì lo star bene, il benessere, la capacità di vivere bene con se stessi, per vivere bene con gli altri. Per cui noi puntiamo sempre affinché di scuola ne parlino tutti, ovviamente tenendo conto che noi siamo tecnici e specialisti della scuola e magari dal mondo della cultura ci aspettiamo un'alleanza, ci aspettiamo un sostegno, ecco non ci aspettiamo che si mettano a fare i tecnici della scuola, così come il mondo politico dovrebbe ascoltare di più i tecnici della scuola, non solo gli informatici che hanno riempito le nostre aule di ogni sorta di strumentazione digitale, a volte con intelligenza, penso la LIM, ma altre volte, come nel caso dell'invasione dei tablet, direi che si poteva assolutamente fare meglio. Ecco, un ruolo importante per gli alunni sono gli insegnanti, a volte fondamentali. Lei durante i convegni ha portato l'esempio di Albert Camus e di come il suo maestro, il signor Germain, ha cambiato la sua vita. Ci spiega quale dovrebbe essere il giusto approccio del docente? Mi permetto magari di fare proprio una digressione su questa incredibile vicenda che a me commuove sempre quando la racconto. In autunno è uscito il libro dedicato che si intitola proprio Caro signor Germain di Albert Camus, per conto della casa editrice, mi sembra, Bonpiani, un libricino che raccoglie l'epistolario fra Albert Camus, il grandissimo scrittore, uno dei più grandi del Novecento, premio Nobel nel Cinquantasette, e il suo maestro. Allora, facciamo un passo indietro. Albert Camus nasce nel 1913 in Algeria da genitori francesi, ma attenzione, suo padre, giusto all'inizio della Prima Guerra Mondiale, 1914, quando Albert a solo un anno muore sul fronte, uno dei primi ammazzati durante la Grande Guerra. Resta orfano completamente e si trova in una situazione di indigenza, di povertà terribile. Va alla scuola e va benissimo. Il suo maestro è proprio questo Germain che capisce che questo bambino ha qualcosa in più, se non che alla fine della scuola elementare sua mamma e sua nonna non hanno risorse, non possono mandarlo avanti, quindi deve essere avviato al lavoro, come succedeva, stiamo parlando degli anni venti, insomma. E allora il maestro, il maestro Germain, va a bussa alla porta della mamma e della nonna e supplica queste due donne di fare domanda per la borsa di studio, che lui avrebbe come maestro sostenuto. Insomma, ribatti, insisti, ce la fa, convince le due donne e a quel punto Albert Camus continua i suoi studi fino a diventare premio Nobel per la letteratura. Al convegno abbiamo letto una di queste lettere, sono straordinarie, mi emozionano sempre molto. Ho dato la lettura al grande attore Thomas Trabacchi, che era con noi, perché non ce la facevo. Questo è un tema fondamentale per ogni insegnante. Ecco, fra i tuoi alunni si può nascondere un premio Nobel, si può nascondere un fenomeno, e tu hai la possibilità di instradarlo, di salvarlo dal pauperismo, dalla mediocrità. Puoi dargli un orizzonte, un futuro. E difatti Albert Camus, quando nel 1957 vince il Nobel per la letteratura, scrive al suo maestro dicendogli, dopo mia madre, lei è la persona più importante. E quindi ho fatto il convegno, mille persone, come ci ricordiamo, mille persone al Teatro Politeama di Piacenza, ho fatto la domanda a chi di voi che siete insegnanti ha avuto nella sua storia di alunno un insegnante come Albert Camus. Praticamente tutti hanno alzato la mano, tutti, è stato meraviglioso. Tutti quelli che fanno un insegnante hanno nella loro memoria un, come dire, un zermen, un signor zermen, un maestro che ha fatto sentire la fiducia nella crescita, nelle potenzialità, nelle risorse, ed è meraviglioso. E allora poi ho impostato tutta la mia relazione, la mezz'oretta, non amo gli spiegoni, come noto, l'ho impostata su questo. Ogni insegnante è un riferimento per i suoi alunni. Può diventare questa figura che abbiamo ricordato. E quindi ciascuno di noi, come insegnante, non deve aspettare la palingenesi, no, la riforma delle riforme che non farà in Italia mai nessuno. Ricordiamo che anche la chiusura dei manicomi fu realizzata per evitare un referendum, altrimenti non avrebbero fatto la legge. C'è sempre qualche motivo un po' opportunistico, quando in Italia si realizzano le grandi riforme, fatta salva la Costituzione, però anche lì bisognava venire fuori da un dramma storico assoluto come era stato il fascismo. E quindi ho invitato ogni insegnante che deve vivere la sua esperienza come se fosse lui la riforma, come se fosse lui il cambiamento, come se fosse lui il punto di svolta. Perché non lo possiamo fare? Nella scuola statale c'è l'assoluta libertà di insegnamento, che ovviamente non è assoluta in senso indiscriminato, ci sono dei vincoli, però sostanzialmente proprio per evitare quello che era successo durante il fascismo, i balilla, il giuramento degli insegnanti al fascismo, l'inquadramento quasi militare degli insegnanti nella compagine statale fascista, la Costituzione garantisce il massimo di libertà di insegnamento. Diciamo che la Costituzione italiana nel mondo è quella che garantisce più libertà di insegnamento. Allora ciascuno di noi se ha il metodo giusto, se ce la fa a trovare le risorse professionali, se diventa un'occasione per se stesso e per i suoi alunni di vivere bene la scuola, di viverla come un progetto dove si sta assieme per imparare, non per cercare i colpevoli, i colpevoli di che cosa. Ecco, la scuola non potrà mai essere un luogo di espiazione, è un luogo di apprendimento, quindi ecco, se ciascun insegnante la vive in questo modo, formandosi come abbiamo fatto durante il convegno, perché non dimentichiamo, mille persone da tutta Italia per un giorno intero e tanta roba, ecco che allora la nostra professione come insegnanti diventa veramente una storia, una narrazione rivoluzionaria direi, dove il termine rivoluzione sta per cambiamento significativo, per svolta, per voltare pagina. Ecco, al Senato hanno recentemente approvato una norma che reintroduce i giudizi sintetici alla primaria. Lei ha sempre avuto una posizione critica in tal senso, ma è possibile una scuola senza voti? Dunque, non è possibile una scuola senza valutazione, senza voti sì, non solo è possibile, è auspicabile ed è la scelta migliore. I voti, specie quelli numerici, ma anche questi sintetici, i cristallizzano il giudizio. Cioè, se uno prende tre o quattro, questo numero non parla, cristallizza, sei un quattro. Oppure in alcuni compiti dal due e mezzo al tre meno meno, dal cinque e mezzo al sei meno meno, cosa sarà? E qualcuno dice, ah no, ma gli studenti capiscono. Eh, sì, capiscono, perché ci sono degli impliciti. Deve dire come fai a capire, che ne so io. Dal cinque e mezzo al sei meno meno, è sufficiente o è insufficiente? Per dirne uno. Boh, e chi lo sa? No, sono misteri della fede scolastica, diciamo così. Allora dobbiamo uscire da questo incubo, secondo me il voto è un incubo, e dire diritto alla valutazione, ma quale valutazione? Non quella di questa sintesi o numerica o appunto semiologica, per cui un, due, tre, gravemente insufficiente. Oddio, gravemente. Cosa avrò? Una malattia? Non so come dice. No, una grave forma, un grave disturbo, no? Ecco, queste, come dire, creano ansia, turbano. Allora, bisogna uscire dalla metafora sportiva. Certo che nello sborso se tu fai una corsa con cento concorrenti vince uno solo, ma la scuola non è così. Se tu hai una partita di calcio, c'è uno che vince, uno che perde, specie se è una finale, non possono vincere in due. Ma la scuola, tutti devono vincere, tutti. Tutti devono usare le loro risorse, tutti. E quindi è assurdo dire, ah, no, lo bocciamo, così si rafforza. Magari nello sport, per carità, può essere, ma non nella scuola, dove il successo celebra la potenzialità dell'alunno. E quindi gli dà una conferma, gli dice, vai avanti, ce la puoi fare, vedi che ce la fai, ce la puoi fare. E viceversa, il giudizio negativo lo inchioda alla sua difficoltà e quindi lo deprime. Noi non dobbiamo deprimere gli alunni, gli studenti, i bambini, i ragazzi. Che senso ha, mi chiedo? Ma cos'è un gioco? Non sono birilli. E anche questo metodo, bastone e carota, ma non sono delle bestie. Quello fallo con gli asini, il bastone e carota. Ma ci vuole rispetto per i nostri alunni, che sono il nostro futuro. Rispetto e rigore, certo. Ma quel rigore che nasce anzitutto dall'esigenza che ogni alunno possa trovarsi nelle condizioni di dare il meglio. Questo è il compito della scuola, è il compito del metodo. Per cui, valutazione sì, io la chiamo valutazione evolutiva. Ne abbiamo parlato anche su Orizzonte Scuola. Continuerò a parlarne. Cioè, valutare i progressi, valutare i progressi, valutare i miglioramenti. Basta con la scuola delle crocette, dove si valutano quante crocette giuste, quante crocette sbagliate. Ma cos'è? Non è la schedina del totocalcio. Basta con questi esercizi deprimenti. Quindi creiamo le condizioni per cui assolutamente si valutano solo i progressi. Allora, i bambini, i ragazzi andranno a scuola felici, contenti. La scuola sarà un'esperienza di benessere, con insegnanti ovviamente preparati, perché è la scuola di qualità e la scuola degli insegnanti di qualità. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. In chiusura del convegno, lei ha lanciato una proposta in nove punti per rilanciare la scuola. È un modello che può essere già realizzato oppure è necessaria una riforma dall'alto? Beh, i nove punti che possiamo anche rileggere in un certo senso necessitano anche di alcuni elementi di intervento istituzionale, ma specialmente non possiamo accettare che l'azione ministeriale si stia concentrando su ritorno del 5 in condotta con bucciatura, ritorno dei giudizi sintetici al posto della valutazione narrativa descrittiva. E' questo tentativo di tornare indietro in senso punitivo, per cui addirittura gli alunni, cioè le loro famiglie in caso di vandalismo o quant'altro, devono pagare fino a 10 mila euro, oppure trasformare il volontariato in una punizione espiatoria. Ecco, questi temi punitivi, colpevolizzanti, non rappresentano la scuola. La scuola è un ambiente benevolo verso gli alunni, verso le famiglie, non può essere visto come l'ambiente dove, o con le buone o con le cattive, li raddrizziamo. Quelli sono i carceri minorili, ammesso che funzionino, perché a quanto pare, visto quello che è successo al Beccaria di Milano, io sono sempre stato dell'idea con il grande amico Ettore Canavera di Cagliari, che ci vogliono le misure alternative al carcere minorile, non i carceri. Quei pochi che ci sono andrebbero chiusi, punto e basta, e creare le comunità alternative, come fa Don Ettore a Serdiana di Cagliari, e sono molto orgoglioso della nostra amicizia, anche lui è prete pedagogista, e quindi bisogna andare assolutamente in un'altra direzione, e tanto più a scuola. per cui ho messo anche due punti che possono essere realizzati subito, certo, però le dirigenze devono dare una mano, Viale Trastevere deve dare una mano, a un tipo di scuola che stia dalla parte degli insegnanti e degli alunni, formando gli insegnanti, non spendendo tutti i soldi che abbiamo per i tablet. Facciamo attenzione, allora ho messo due punti, il punto 8, chiediamo una scuola dove l'alunno difficile non debba avere per forza un disturbo neuropsichiatrico, l'alunno difficile è difficile, perché deve avere per tutti i costi un disturbo, dove è scritto, perché lo faccia vedere. Ecco, diamoci piano. E il punto 9, chiediamo di vivere la scuola come occasione per essere felici, senza mortificazioni, verso nessuno. Non solo, il punto 7, una scuola dove la formazione degli insegnanti sia orientata alle competenze pedagogiche e non solo a quelle digitali, vengono prima le competenze pedagogiche, ma ci mancherebbe, ma che senso ha trasformare gli insegnanti in informatici? Ma che l'informatico deve essere un tuo assistente, non che tu diventi come lui, che devi essere esperto di tutto, no, l'insegnante è un regista dei processi di apprendimento, quindi chiediamo una cultura dell'errore come strumento formativo di autoregolazione e di apprendimento. Quindi un po' questi nuovi punti, io spero che Orizzonte Scuola possa pubblicare, sono punti un po' un mix fra questioni di qualità professionale e anche questioni più strettamente pedagogiche. Ovvio che la politica rappresenta ciò che i cittadini hanno eletto, che hanno voluto, deve dare una mano in questo senso, le istituzioni devono stare dalla parte di un cambiamento scolastico, non di una retromarcia. La scuola dei gamberi ci porta all'Ottocento, non ne abbiamo bisogno. E allora ecco, con tanti pedagogisti ci stiamo battendo perché si tenga la barra in direzione dell'Europa, ecco, non in direzione di una linea diacronica che rischia appunto di farci tornare indietro invece che guardare con fiducia a una scuola veramente migliore, senza rancori, ecco, senza rancori. I ragazzi in un certo senso che si comportano male e che sbagliano sono anche quelli che hanno più bisogno della scuola. Non ha senso accanirsi con loro, ha senso aiutarli con interventi specifici e senz'altro io auspico che il mio metodo Litigare Bene, che è un metodo efficacissimo, diventi patrimonio comune della scuola. Lo trovate su Wikipedia addirittura. Litigare Bene, ma ne abbiamo parlato tanto su Orizzonte Scuola che ringrazio perché è davvero un luogo di crescita per gli insegnanti, per tutti quelli che credono in questi progetti. Allora, piuttosto che cercare colpevoli, rafforziamo la loro capacità di litigare e così creiamo gli antidoti contro i comportamenti aggressivi, bullistici e anche violenti. Grazie Professor Novara per essere stato con noi. Grazie, un caro saluto a tutti e a tutte. grazie a tutti e a tutti e a tutti.